Paolo Caputo, dopo la sconfitta con tante polemiche, tanti episodi dubbi contro l'Anzio, era questa la risposta che voleva dalla sua squadra? Una prestazione convincente, una vittoria netta? Beh sì, noi, quello che ho detto ai ragazzi domenica, che la partita l'abbiamo persa, noi non l'hanno vinta loro, oggi la squadra ha messo quel pizzico di determinazione in più che avessimo avuto domenica, sicuramente non avremmo perso. Ma la squadra me l'ha piaciuta anche domenica, sono qualcosina così che a livello caratteriale è un po' più di piglio. Oggi la squadra si è espressa bene, ha giocato bene, ha fatto girare la palla, quindi tutti i gol, azioni da squadra, sono stati bravi, molto bravi. Per la gara di ritorno il 4-1 è il risultato che vi lascia tranquilli oppure c'è ancora da giocare? Ma il calcio è sempre una cosa che non è matematica, può sempre succedere tutto, però non male che se si affrontano le gare con questo atteggiamento, non dico che non rischi, però sei molto avanti. Oggi avete cambiato diversi giocatori, quanto è contento proprio dei giocatori che magari non hanno giocato tantissimo finora e invece oggi hanno risposto presente? Credo che questo sia il problema che vorrebbe qualsiasi allenatore, avere delle risposte importanti e essere in difficoltà poi dopo nel fare le scelte. Oggi abbiamo cambiato sei undicesimi rispetto a domenica e quelli che sono entrati che non c'erano domenica hanno veramente dato l'animo.